Il prologo al secondo libro di Divinazione è molto interessante perché riporta un elenco dei testi che l'Arpinate aveva fino ad allora dedicato alla filosofia, non potendosi occupare della tutela della Repubblica, poiché era in mano, come lui dice, a un uomo solo. Questo elenco di opere è poi ripreso da Petrarca nel dodicesimo libro delle Familiari, e ebbe vasta fortuna nel Rinascimento. Mi sono chiesto, e ho molto lungamente riflettuto, come avrei potuto giovare alla maggior parte dei miei concittadini, per non essere costretto in nessun caso a smettere di agire a vantaggio dello Stato. La soluzione migliore che mi venne in mente fu di rendere note ad essi le vie per raggiungere la più elevata attività dello spirito, cioè la filosofia. Credo di aver già ottenuto questo scopo con molti miei libri. Nell'opera intitolata Ortensio, è il famoso Ortensio citato da Agostino, ho esortato i lettori, quanto più ho potuto, allo studio della filosofia. Nei quattro libri accademici ho mostrato quale sia, a mio parere, l'indirizzo filosofico meno arrogante e più coerente ed elegante. E poiché la base della filosofia consiste nello stabilire qual è il sommo bene e il sommo male, ho chiarito a fondo questo argomento in un'opera composta di cinque libri, in modo da far comprendere che cosa sia ciascun filosofo, cosa sostenga e che cosa egli obiettasse ai suoi avversari. Nei libri delle discussioni tuscolane, le Tuscolane Disputaciones, venuti subito dopo, altrettanti di numero, ho esposto ciò che soprattutto è necessario a raggiungere la felicità. Il primo di essi tratta del disprezzo della morte, il secondo del modo di sopportare il dolore fisico, il terzo del mitigare le afflizioni dello spirito, il quarto di tutte le altre perturbazioni dell'anima, il quinto affronta quell'argomento che più di tutti dà splendore alla filosofia, giacché dimostra che la virtù basta a sé stessa per ottenere la felicità. Esposti con gli argomenti, ho portato a termine i tre libri sulla natura degli dèi, il de natura de Oru, nei quali questo problema è discusso da ogni punto di vista. E perché l'esposizione fosse completa e del tutto esauriente, ho intrapreso a scrivere questi due libri sulla divinazione. Se ad essi aggiungerò, come mi riprometto, un'opera sul fatto, tutto questo problema sarà stato trattato in modo da soddisfare anche i più esigenti. A questi libri, inoltre, vanno aggiunti i sei sulla Repubblica, che scrissi quando reggevo il timone dello Stato, argomento fondamentale e apparentemente anch'esso svolto dalla filosofia, già trattato amplissimamente da Platone, Aristotele, Teofrasto e da tutta la schiera dei peripatetici. E che dire della consolazione? Anche a me essa arreca qualche conforto. Era una consolazione non pervenutaci dedicata alla morte della figlia Tullia, molto amata dall'arpinate. Agli altri del pari, credo che gioverà molto. Poco fa ho inserito il mio libro sulla vecchiezza, che ho dedicato al mio Attico, un amico di Cicerone. E siccome più che mai la filosofia rende l'uomo buono e forte, il mio Catone, di cui appunto trattava l'opera d'Essenectute, è da annoverare fra i libri filosofici. E se Aristotele e con lui Teofrasto, eccellenti sia per Cume d'Ingegno sia per Facondia, gareggiano nella filosofia e trattano anche i precetti dell'arte del dire, ne risulta che le mie opere retoriche devono appartenere anch'esse alla schiera dei miei libri filosofici. Vi apparterranno dunque i tre libri dell'oratore, per quarto il brutto, per quinto l'oratore. A questo punto ero arrivato, al resto del lavoro mi accingevo con animo a lacre, col fermo a proposito di non tralasciare alcun argomento filosofico, la cui esposizione io non rendessi accessibile in lingua latina, a meno che qualche motivo più importante non si fosse frapposto. Quale servizio maggiore o migliore, in effetti, io potrei rendere alla mia patria che istruire e formare la gioventù, specialmente in questi tempi di corruzione morale in cui è talmente sprofondata da rendere necessario lo sforzo di tutti per frenarla e ridarle il senso del dovere. Non mi illudo, beninteso, di poter raggiungere lo scopo che non si può nemmeno pretendere. Indurre tutti i giovani a questi studi. Potessi indurne anche solo pochi. La loro attività potrà pur sempre espandersi largamente entro lo Stato. Del resto, io mi considero remunerato della mia fatica anche da quelli che, già avanti negli anni, trovarono conforto nei miei libri. Dal loro desiderio di leggere trae sempre maggiore ardore, di giorno in giorno, il mio desiderio di scrivere. E ho saputo che essi sono più numerosi di quanto pensassi. È anche una cosa magnifica e un motivo di orgoglio per i romani, il non aver bisogno per la filosofia di opere scritte in greco. Ricordo che Cicerone fu il primo a trattare estesamente di filosofia in latino. E per questo risultato lo raggiungerò certamente se riuscirò a portare a termine il mio progetto. A dire il vero, l'impulso a dedicarmi alla divulgazione della filosofia mi venne da un doloroso evento della patria. Nella guerra civile non potevo né difendere lo Stato, secondo il mio solito, né stare senza far nulla. E nemmeno trovavo qualcosa di meglio da fare che fosse degno di me. Mi perdoneranno dunque i miei concittadini, o meglio mi saranno grati se io, nel tempo in cui lo Stato era in potere di uno solo. Non mi sono tenuto nascosto, né mi sono perduto d'animo, né mi sono lasciato abbattere, né mi sono comportato come se fossi preso da ira verso l'uomo e verso i tempi. Né, d'altra parte, ho adulato o ho ammirato la sorte altrui, in modo da sembrare pentito della sfortuna di cui mi ero preoccupato. Proprio questo, infatti, avevo imparato da Platone e dalla filosofia, che vi sono dei mutamenti naturali delle istituzioni politiche, per cui esse sono dominate talvolta da un gruppo di oligarchi, talaltra dalla parte popolare, e in certe circostanze da un solo uomo. Sono infatti le tre forme della degenerazione politica. E poiché quest'ultimo caso era accaduto al nostro Stato, io, reso privo delle mansioni politiche di un tempo, ritornai a questi studi per sollevare il più possibile l'animo dall'angoscia in cui mi trovavo, sia per rendermi utile ai miei concittadini in tutto ciò che potevo. Nei miei libri facevo le mie dichiarazioni di voto, pronunciavo i miei pubblici discorsi, consideravo la filosofia come un sostituto di quella che per me era stata l'amministrazione dello Stato. Ora, poiché si ricomincia a chiedere il mio parere su questioni politiche, è doveroso occuparsi di politica. Anzi, ad essa bisogna rivolgere ogni pensiero ed ogni attività, riservando allo studio della filosofia solo il tempo che rimarrà libero dei compiti e dei doveri pubblici. Ma di questo parleremo più a lungo un'altra volta. Ora, ritorniamo alla discussione che avevamo intrapreso.